Sì, buonasera, sono con l'allenatore Rosario della squadra 1926 Mario Bros. Ma quest'anno mi sta dicendo che ha avuto un po' di sfortuna con dei giocatori. Rosario, ma cosa è successo? Eh, l'accento di merda, mi hanno bigliato la voce tutti qua. Dici che stanno tutto il terreno, tutto, qualche bado, tutti qua. Mi hanno messo proprio a scuola, che stanno in suo ultimo posto. E come mai? Ma non possiamo vedere di fare qualcosa di buono? Non lo so, per la prossima settimana, se sì, la facciamo salire la classifica, se no è una persona che mi è stato un bene, proprio il cazzo mi è stato un bene. E chi è questa persona? Peppo Pionde. Ah, faccio il cazzo. E mi dice che sta da un po' preoccupare, sta da un po' a pack, sta da un po' a chillare, sta da un po' a chillare. E lo so, lo vogliamo mettere un po' storto a questo ragazzo? Non ti preoccupare, non me lo vedo io. O vedi chi? Mi è a scuola con tutto il palo, con tutti i piedi, con tutto il cazzo a mucca, perché non mi è merda, sta da un po' a te, sta da un po' a chillare, 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 sta da un po' a chillare. Mi è a scuola! Rosario, ma vogliamo dire qualcosa anche a quell'altro amico? Dottore? Ah, Dottore? Mi è a scuola, mi ha messo proprio a scuola. ma tu mi ha giocato io sono un bel mare con tutti i para te il portino sono scemo e ti ha rompito la caccia non lo fanno a dire no, no, non lo fanno a dire sono un bel mare Rosario, adesso un video tecnico per Peppo e Biondo vai la tecnica che ti ha fatto l'ultima posta te lo ha rompito la caccia è un bel mare te lo dico te hai già scattuto il colpo lo ha rompito la caccia è un bel mare a viva delci